Ciao a tutti, sono Bladescraft e mi vedrete vi chiederete perché vi mostro questa casa e il perché questa è una casa che sto costruendo tutta da solo da non molto al massimo al massimo massimo 10 giorni ecco ve la mostro questa sarà la costruzione dell'ascensore la costruzione dell'ascensore per ora i circuiti ancora non li abbiamo fatti perché le basi devono essere queste perciò lo vogliamo fare tutto elegante i circuiti sono molto complicati noi non li sappiamo fare perciò chi ci vuole aiutare è sempre il benvenuto poi questo è il soggiorno questo è un piccolo divano questo è il televisore non è granché ancora è ancora in costruzione lo ripeto e qui c'è la vasca ad idromassaggio ecco un piccolo bug che ho trovato guardate l'acqua è storta ci sono i pixel che salgono un piccolo bug però non volevo me ne sono accorti solo ora e poi c'è questa stanza una stanza tutta di quadri qua c'è un magazzino qua ancora non sappiamo come farlo dietro c'è la montagna siamo in montagna abbiamo dovuto spionare tutto abbiamo fatto un sacco di lavoro poi qua visto che siamo in 1.3 abbiamo fatto tante cose con il legno che da lontano dovrebbero sembrare delle crepature così è più bello poi questa scritta abbastanza semplice da fare è Bladescraft perché questo è il costruttore poi questi sono Gazebo e non ho usato né World Painter né World Edit né MC Edit queste cose no a parte che non li sa usare e poi il seed in realtà l'avevo messo perché ho scoperto che qui c'era un tempio mezzo sospeso è un seed buono c'è un canyon però alla fine siccome diciamo era già stato scoperto ma non era importante per queste cose alla fine ho deciso di farci costruzioni perché bello come visuale aspetta che vedo quando ho registrato tre minuti vabbè vi mostro un altro paio di cose qua c'è la scuola per l'ingresso c'è anche un piano lì sotto infatti con questo bottone si va al piano superiore qua al piano inferiore vi mostro il piano inferiore eccolo qui qui c'è pure l'ascensore qui c'è l'ana perché di sopra c'è l'ana vedremo poi come aggiustare e che dire da vi ho mostrato quello che vi volevo mostrare da bencraft è tutto l'anima